50.000 persone sfidano il maltempo per assistere al derby del Kentucky, classica corsa dotata di un vistoso premio di quasi 40.000 dollari per il proprietario del cavallo vincente. Il culebro Omaha, dato per 4 a 1, vince il derby per una lunghezza e mezza. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS